Montata in prossimità delle luci, la telecamera per la retromarcia è progettata per facilitare le manovre fornendo una vista dell'area dietro il veicolo. Questa telecamera si attiva quando viene innestata la retromarcia. L'immagine include sagome in tre diversi colori per indicare le distanze dal paraurti. Una sagoma verde indica una distanza di circa un metro e mezzo, gialla circa 70 centimetri e rossa 30 centimetri. Si vedono infine delle linee di traiettoria blu che si muovono in base all'angolo del volante applicato. È possibile regolare alcuni parametri della telecamera di retromarcia dallo schermo Easy Link. Selezionare Impostazioni, Veicolo e infine Telecamera. È dunque possibile regolare luminosità, contrasto e colore dell'immagine oppure accendere o spegnere la visualizzazione dei tracciati di sterzata. Se la telecamera di retromarcia è attivata, è possibile modificare le impostazioni anche utilizzando questo collegamento. Per garantirne il funzionamento, assicurarsi di mantenere pulita la telecamera. Infine, tenere presente che questa funzione è un ausilio alla guida che non deve comunque sostituire la vigilanza del conducente. Dato che la camera non fornisce una visione completa dell'ambiente circostante, prestare sempre attenzione e esercitare la massima cautela in modo da effettuare le manovre nelle migliori condizioni possibili.